Hai un bar? A Milano? Vuoi far crescere il tuo business? Entra nella prima drinking community digitale. Riempi quando il locale è vuoto. Apri il tuo negozio virtuale. Guadagna H24. Ospita eventi digitali. Connettiamo il tuo bar con i tuoi futuri clienti attraverso un'innovativa app mobile. Stiamo selezionando i migliori bar della città. Scopri come entrare in Open Bar.